Oggi parliamo di comunicazione, ma di un certo tipo di comunicazione. Io farò brevemente con voi una specie di sintesi della storia degli ultimi cento anni in termini di comunicazione. Al calcio ci arriviamo, ma per dirvi e riflettere insieme sul fatto che il calcio, lo sport in genere, il calcio in particolare, sono una forma del racconto della vita. E chiudo con una frase di Alessandro Baricco, che è uno scrittore che evoca storie, quello che ha scritto la storia del pianista sull'oceano, per esempio, racconto 900 di 50 pagine, questo signore che nasce, vive e muore a bordo di una nave, senza toccare mai terra. Racconto molto suggestivo, storia inventata, ma una bella storia inventata. E Baricco dice, non sei mai fregato del tutto finché in tasca hai una storia e qualcuno a cui raccontarla. Vale per il calcio, vale per tutte le altre cose della vita.